Questa domenica in trasferta a Rieti ci aspetta una partita molto difficile contro un avversario molto impegnativo. La formazione laziale è una squadra sicuramente ben organizzata e costruita molto bene e sta vivendo un ottimo periodo di forma. A testimonianza di questo fatto c'è la recente qualificazione alle Final 8 di Coppa Italia, ottenuta dopo il successo nel derby casalingo contro l'altra formazione di Rieti. È una squadra molto forte che tra le mura amiche esprime sicuramente una palla canestra di alto livello. Qua del suo punto di forza gioca in transizione con giocatori molto abili a spingere la palla e a concludere vicino al ferro. In cabina di regia troviamo un playmaker molto giovane, Antelli, che è in grado di mettere in ritmo i propri compagni ma soprattutto di spingere in transizione. Nel reparto esterno troviamo un giocatore che da queste parti conosciamo bene, Filippo Testa, un ottimo tiratore che gioca bene senza palla e corre in contrapiede e Tim Peri, un atleta di alto livello a cui piace giocare anche con la testa sopra il ferro. Nel reparto lunghi invece troviamo tre lunghi di stazza come Papa, Tiberti e Broglia, molto abili a chiudere vicino al ferro ma anche a spaziare il campo e a chiudere fuori dall'arco dei tre punti. Questa domenica è una partita come detto prima molto difficile e speriamo di ottenere il massimo risultato.